Non vi è distanza sulla Terra che le radiocomunicazioni non possano superare, ed offre oggi all'umanità il più potente ed universale mezzo di rapida comunicazione a distanza che il mondo abbia mai conosciuto. Guglielmo Marconi Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'oceano atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori. Ci troviamo a Villa Grifone di Pontechio Marconi, da questo luogo il giovane Guglielmo condusse i primi esperimenti che lo portarono all'invenzione del telegrafo senza fili, per il quale cento anni fa ricevette il premio Nobel per la fisica. Il nostro viaggio alla ricerca dell'eredità dello scienziato inizia da questo luogo simbolo, è qui che abbiamo incontrato il presidente della fondazione Marconi e nonché presidente di Lepida S.P.A., professor Gabriele Falciasecca. Marconi attraverso i suoi primi esperimenti e la sua attività successiva di sviluppo dei sistemi radio ha messo in moto un processo che ci ha portato a quello che adesso noi abbiamo sotto gli occhi, che viviamo tutti i giorni, cioè questo mondo nel quale la globalizzazione delle telecomunicazioni ha reso veramente tutti parte di un villaggio globale come è stato definito da Marshall McLuhan, il grande comunicatore. Più nello specifico, gli esperimenti che sono stati condotti proprio qui, questi esperimenti sono stati quelli che hanno dimostrato a Guglielmo Marconi e poi a tutto il mondo che con le onde elettromagnetiche si potevano fare cose che con mezzi allora a disposizione, quindi per esempio raggi luminosi, non erano possibili. Qui sta la grande intuizione di Marconi, se le onde elettromagnetiche avessero in tutto le proprietà dei raggi luminosi noi non potremmo ricevere come facciamo per esempio le comunicazioni cellulari all'interno degli edifici schermati da ostacoli, da montagne e così via. In questo sta l'inizio delle grandi intuizioni di Marconi che poi per tutta una vita ha continuato a sviluppare queste sue grandi possibilità intellettuali facendole diventare anche un qualcosa di importante per l'umanità, quindi un mezzo per comunicare che ha cambiato il nostro modo di vivere. La mattina del 12 dicembre tutto era pronto ed il momento decisivo si avvicinava. Nonostante un fortissimo e gelido vento si riuscì ad innalzare dopo molti vani tentativi un cervo volante che sollevava una estremità dell'antenna ad un'altezza di circa 120 metri. Alle 12 e 30, mentre ero in nasconto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse, i segnali cioè che secondo gli ordini da me impartiti venivano lanciati nello spazio della stazione di Polgiu sull'altra sponda dell'oceano. Era nata in quel momento la radio telegrafia a grande distanza. La distanza di oltre 3.000 chilometri, che sembrava allora enorme per la radio, era stata superata, nonostante il presunto ostacolo della curvatura terrestre che tutti ritenevano insormontabile. La caratteristica del museo è quella di alternare materiale storico, tutto funzionante peraltro per la verità, quindi utilizzabile direttamente seppure con tante cautele e poi abbiamo anche degli exhibit interattivi che invece i visitatori possono usare senza precauzione per ripetere gli esperimenti di Marconi, per rendersi conto direttamente del funzionamento di alcuni dispositivi usati dal grande inventore e così via. Naturalmente la Villa Grifone non è solo museo, all'interno della villa abbiamo laboratori di ricerca, in particolare qui lavorano colleghi del Dipartimento di Elettronica e Informatica e Sistemistica dell'Università di Bologna, colleghi della Fondazione Bordoni e questo luogo è stato un po' la culla italiana ai tempi in cui è stato sviluppato il sistema GSM paneuropeo che appunto ha consentito questo sviluppo formidabile delle comunicazioni mobili. E poi è un centro di alta formazione, qui si fanno spesso convegni e giornate di studio, in questo senso è un luogo di incontro tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa, questo sempre seguendo quello che ci ha indicato a suo tempo Guglielmo Marconi che personalmente lui era ricercatore, inventore ma anche imprenditore, quindi uomo di impresa. Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. A questo fine decisi nel 1900 di far costruire due potenti stazioni radiotelegrafiche, una a Poljoo in Inghilterra e l'altra sulla costa degli Stati Uniti d'America. La costruzione di queste due stazioni, per le quali fu necessario arrischiare una ingentissima somma, fu ultimata nell'agosto del 1901. Il primo evento importante che avremo sarà questa, lasciatemela chiamare, grande Kermessa Palazzo Renzo con parte espositiva, convegni e così via. Cominceremo in aprile, col 25 aprile, con la nostra celebrazione di giornata marconiana che quest'anno segnerà l'avvio dell'anno 2009-2010 di celebrazione. Poi gli appuntamenti più importanti che avremo sono sicuramente a ottobre quando avremo a Bologna la consegna del prestigioso premio Marconi, il Marconi Fellowship Award, che è un po' un piccolo nobber delle telecomunicazioni. Poi verso la fine dell'anno 2009, in occasione poi della ricorrenza dell'11 dicembre avremo sicuramente un'altra manifestazione a cui farà seguito l'apertura di una mostra che avremo al Museo archeologico. Il mondo dell'ICT dovrebbe cercarsi degli obiettivi sui grandi problemi che in questo momento ha il nostro globo, che sono nel campo dell'ambiente, sono nel campo dell'energia, sono nel campo della sanità e affrontarli come obiettivi primari. Non, come dire, di seconda battuta, visto che disponiamo della possibilità di comunicare, di elaborare, di acquisire informazioni, la mettiamo a disposizione di questi mondi. No, proprio avere l'obiettivo primario è costruire le applicazioni per risolvere dei problemi in altri campi, come quelli che citavo, energia, sanità, eccetera. L'Epida S.P.A. è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli enti soci e degli enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi informatici. Su quelli che sono gli obiettivi di Lepida S.P.A. abbiamo sentito il suo presidente. Lepida da un lato si occupa appunto di questo aspetto di gestione delle reti, dall'altro lato produciamo idee di nuovi servizi perché avendo queste reti molto avanzate vogliamo che i nostri cittadini, i cittadini della Regione Emilia Romagna, possano usufruire di servizi della pubblica amministrazione al massimo livello, i più avanzati possibili. E diciamo allora che Lepida apre uno scenario, uno scenario per la nostra Regione nuovo, come iniziativa Lepida S.P.A. è una cosa abbastanza originale, molti ci copieranno come ci hanno copiato cose che abbiamo fatto nel passato e quindi è una finestra proiettata verso il futuro così come Guglielmo Marconi aprendo questa finestra nel 1895, fece quell'esperimento di trasmissione di un segnale radio al di là della collina dei Celestini che è proprio qui di fronte a noi e con quell'esperimento lui assieme dimostrò le proprietà delle onde elettromagnetiche e comprese che per realizzare davvero un sistema di telecomunicazioni bisognava avere come laboratorio, non questo bel laboratorio dentro la Villa Grifone, ma il mondo non vi è distanza sulla Terra che le radiocomunicazioni non possano superare. Da quel giorno la scienza delle radiocomunicazioni ha fatto passi da gigante ed offre oggi all'umanità il più potente ed universale mezzo di rapida comunicazione a distanza che il mondo abbia mai conosciuto, Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi Grazie a tutti Grazie a tutti